Trascorriamo il 90% della nostra vita in spazi interni. La nostra vita è diventata un incastro complesso di spostamenti pendolari, lavoro e attività al chiuso. Per risparmiare energia abbiamo isolato le nostre case così bene che non entra abbastanza aria fresca negli ambienti. L'aria fresca è invece ottima per la nostra salute. Nelle fredde giornate invernali l'aria dei nostri ambienti è spesso troppo secca. Queste condizioni possono causare irritazioni fastidiose, pelle secca, occhi arrossati fino a problemi di salute veri e propri. D'altra parte percepiamo l'aria calda e umida delle roventi giornate estive come più calda della temperatura effettiva. L'aria fresca e un'umidità relativa dell'aria nell'intervallo confortevole tra il 40 e il 60% sono ottimali per il nostro benessere. La soluzione ideale in tal senso è una ventilazione comfort per ambienti con recupero dell'umidità. Consente di avere un'ottima qualità dell'aria ambiente ed è un'alternativa sana ed efficiente dal punto di vista energetico alla ventilazione mediante finestre. I sistemi di ventilazione comfort per ambienti zender con scambiatore entalpico recuperano fino all'80% di calore e fino al 70% di umidità. Così in inverno calore e umidità rimangono nell'ambiente mentre viene convogliata la quantità idonea di aria fresca. D'estate invece l'aria esterna calda e umida viene privata di calore e umidità prima che l'aria fresca entri direttamente in casa. La membrana polimerica brevettata di zender funziona come strato di separazione tra i flussi d'aria. Allo stesso tempo impedisce il passaggio di impurità dall'aria aspirata all'aria dimandata. Questo sistema efficiente dal punto di vista energetico previene un'aria ambiente troppo secca in inverno e un'aria troppo umida in estate. In questo modo si ottiene una qualità dell'aria ambiente ottima con un comfort e un benessere maggiori. La presenza della ventilazione comfort zender si percepisce subito entrando in una stanza. Avete già un impianto zender di ventilazione comfort per ambienti e vorreste integrarlo con il recupero dell'umidità? Basta semplicemente installare lo scambiatore entalpico zender. Il vostro partner zender sarà lieto di consigliarvi. Zender, sempre il miglior clima. Grazie. Grazie.